Una tragedia familiare che lascia senza parole, un episodio che ci riporta indietro di sei anni quando una mamma, Vanessa Loporto, uccise i suoi due bambini annegandoli nel mare di Contra da Manfria perché autistici, poi cercò di suicidarsi ma non ce la fece. Era il 23 aprile del 2010. Oggi, poco prima delle 13, un'altra immane tragedia ha sconvolto Gela. Un'altra mamma ha ucciso le sue bimbe, si chiamavano Maria Sofia e Gaia. Avevano 9 e 7 anni. Le ha uccise avvelenandole con la candeggina. Lei è un'insegnante di sostegno con incarico a termine. Si chiama Giuseppa Savatta, 41 anni. Il duplice infanticidio è stato compiuto nell'appartamento dove abita la famiglia al numero 5 di via Passaniti, nel cuore del centro storico. Le piccole vittime frequentavano la scuola elementare, su Orteresa Valse. Erano ancora in pigiama quando la madre le avrebbe avvelenate costringendole con la forza a bere candeggina fino a escoriarne la bocca ed esercitando nel contempo una forte pressione alla gola. Sarà l'autopsia a stabilire se le due sorelline sono decedute per gli effetti della candeggina o se per asfissia da soffocamento. A scoprire la tragedia è stato il marito Vincenzo Trenito, 48 anni, ingegnere, insegnante alla liceo scientifico Elio Vittorini, che è rientrato a casa, ha trovato le bimbe senza vita stese per terra, una nel corridoio, l'altra nella sua cameretta e la moglie con gli abiti intrisi di candeggina che avrebbe tentato il suicidio procurandosi dettagli superficiali alle braccia e cercando di buttarsi dal balcone prontamente bloccata dal coniuge. Il parapiglia ha richiamato l'attenzione dei vicini di casa, tra cui alcuni muratori che lavoravano nella zona. È stato dato l'allarme a polizia, carabinieri 118 che sono accorsi sul posto. Giuseppa Savatta è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, medicata e tenuta in stretta osservazione medica, piantonata dalle forze dell'ordine in stato di fermo. Il marito, invece, è stato accompagnato in caserma dove è stato a lungo interrogato dagli inquirenti. Le indagini condotte da carabinieri e polizia sono coordinate dal procuratore Fernando Asaro che ha ordinato l'autopsia sul corpo delle due bambine. Alcuni vicini di casa hanno raccontato che la donna soffriva da tempo di depressione, ma gli investigatori non hanno trovato traccia di referti medici che attestino tale patologia. Due anni addietro, il padre di Giuseppa Savatta si suicidò lanciandosi dal proprio balcone al quarto piano di un edificio. Quell'episodio avrebbe segnato fortemente l'equilibrio psichico della donna. Nulla però sarebbe trapelato da quella casa, forse per non compromettere la carriera scolastica ancora precaria di lei come insegnante di sostegno. Anche il comune di Gela esprime pubblicamente sgomento per la tragedia familiare che ha colpito la città. Un segno di lutto per la scomparsa delle due bambine e raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, il sindaco Domenico Messinese, con una ordinanza, ha disposto che siano essate a mezz'asta le bandiere sul palazzo di città. Nella giornata di oggi è stato inoltre sospeso il servizio di filodiffusione attivo nel centro urbano per il periodo natalizio. E Gela oggi purtroppo piange due vittime innocenti, due bimbe uccise dalla mano di una madre che avrebbe dovuto invece proteggerle.